Ciao a tutti, io sono Edoardo e sono il maestro di falegnameria e nel progetto Multilab stiamo costruendo dei manufatti, li vedete già alcuni realizzati e facciamo tecniche molto semplici di tipo bricolage perché abbiamo un'attrezzatura abbastanza limitata e quindi stiamo cercando di progettare, abbiamo progettato e costruito dei piccoli armadi delle strutture come questa che vedete al fianco che sono di piccoli manufatti fatto dai ragazzi o dai signori che partecipano a questo corso. Gli obiettivi di questo corso sono di riuscire a realizzare i prodotti di cui dicevo prima ma soprattutto imparare a usare gli utensili che sono utensili abbastanza semplici ma che comunque richiedono una certa manualità, una certa precisione, quindi l'obiettivo è di raggiungere questa autonomia nel realizzare alcuni prodotti anche semplici ma che richiedono comunque un impegno.